cari amici benvenuti in questo nuovo video di shakes and fidget versione natalizia guardate quante persone sono venute a trovarci nella taverna e la cosa brutta è che sono tutte in coda per il gabinetto a proposito di gabinetto dove andare un attimo a incipiarmi il naso quindi va nel mio inventario e buttami delle pietre in faccia come ti devo lanciare dei sassi in faccia si sai per togliere un po di sebo dal naso ah proprio così ma bozza cioè bellissimo possiamo tirare i sassi addosso alla gente e non se ne lamenta nessuno non solo dobbiamo anche andare al gabinetto e tirare l'acqua l'ho intasato di nuovo e sei intasato che ci posso fare andiamo a vedere che disastro ha combinato chi ha guarda guarda qui anche la carta igienica non l'hai finita tutta è uno spreco effettivamente io non avevo lasciato neanche una briciola neanche il rotolino avresti lasciato guarda c'è anche l'ascia per tagliarla meglio e gustarsela di più poi il cartello che ho scritto non fare più più mentre stai testa in giola devi tirare l'acqua spero di trovarci un buon oggetto l'ultimo faceva talmente schifo che non ve lo voglio neanche far vedere che l'ho buttato via subito pronti la catena tanto da bello sciacquone hai trovato degli stivali vecchessimi e e fanno schifo fanno schifo tanta armatura però ma fanno schifo fanno schifo io butto tutte queste gemme ogni giorno nel vader per ottenere gli stivali orribili che ne trovo di meglio delle misce ma che schifo ributta il gabinetto immediatamente sono diventati stivali da mago in questo tu non sei un mago sbagliato io ho un mago nel mio esercito personale hai un esercito personale ho un esercito personale tu adesso vai in dungeon e ti mostro una cosa che non hai mai visto l'ho sbloccata l'ultima volta poco dopo aver registrato l'ultimo video nella torre che è stata appena sbloccata uno di cento che è sta gente sono bertram mark e cune gonda i miei nuovi tre amici con cui vado a uccidere i biscotti in poche parole mamma mia l'esercito per distruggere gli omini di zenzero e si a lei ha dato una bella tutti gli oggetti che non uso più io praticamente perché è una cera è una cera quindi tu finalmente puoi dare tutti gli oggetti che prima non sapevi cosa fartene per mago e per guerriero puoi darli effettivamente a qualcuno ecco il mago se ne fa qualcosa di quelli stivali sono meglio quelli che ha già crediamo 299 203 139 questo qua mi sembra mi sembra peggio e allora buttali via direttamente le butto in testa quello posso buttali via direttamente no buttali via vendili dove li butto li vendo addirittura sono stati nel gabinetto sono stati li vogliono lo stesso non ti pagano infatti ah come non ti pagano non ti pagano cioè gli li regalo e vedrai chi vuoi che se la prenda la roba del gabinetto ma che senso aveva allora a proposito di gabinetto vai a sacrificare una gemma perché bisogna ricominciare a ricaricarlo non è che possiamo stare qui a fufoleggiare lanciare questo oggetto il gabinetto farà solo arrabbiare gli arcani e gli arcani hanno fatto arrabbiare me mi hanno dato degli stivali orribili attacco sei al primo piano eh sì uomo torta eh sì aia ti tira i pugni fa un male questo uomo un male aia la vedo brutta prossima battaglia non ne abbiamo fatto niente non gli fai niente a questi uomini è quello il problema cavoletti e allora è terribile buttarli giù cioè è niente non gli fai niente un esercito personale lui è fatto di zenzio voi siete fatti direttamente di manzapane cioè è uno scherzo lo so lo so è terribile ma non hai visto il peggio come c'è il peggio c'è un demone a cui sto lavorando nei dungeon che ancora non sono riuscito a buttare giù che da tipo 10 anni che ci sto lavorando riesco ogni giorno a togliere un pezzettino ma lo si ricarica a nottotempo è come la tela di penelope non si disfa mai è terribile adesso andiamo alla fortezza per vedere la non plus ultra della magnificenza estrema di Chiria guarda qui che bello sono tipo quattro giorni che aspetto che mi completi il cancello perché non c'è versi da anni ci vogliono per completare le costruzioni e allora attacchiamo e allora attacchiamo no non me li distrugge tutti i soldati potremmo farcela però potremmo fare l'attacco degli attacchi all'attacco all'attacco mamma mia se mi perdi mi incavolo come una bestia dai dai vedo la fine dei loro ma non della nostra truppa vittoria te ne erano rimasti solamente 5 quindi ottimo e sei riuscita a farti più 1, 2, 9, 7 ranghi e un bottino spaventosamente alto e allora ricaricami i soldati che secondo me ci spendo di più a rifarmi i soldati che ha no 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 ci hai preso di più stavolta per una volta nel senso torna un po' nei dungeon che devo farti vedere una cosa cosa mi fai vedere? vedi quella monetina? cliccala clicca qui per cambiare tra mondo di luci e di ombre tan 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 che cavolo è sta roba? c'è un'altra torre di cui sono a livello 30 che bello questa è leggermente più umana ma sono bloccata anche qui conto fiammetta ma sì abbiamo un fungo sporchiamolo dai praticamente uno deve fare dei piani assurdi contro dei mostri cattivissimi che però sono così pucci eh ma sono sola qui gli altri amici non mi aiutano non vengono nella parte ombra hanno paura del buio no ha paura del buio esatto sei scelta proprio dei compagni di viaggio incredibile eh mi rendo conto ma no no resisti nooo è andata è andata eh ma è un po' bello la battaglia non è stata niente male e neanche il traversario sarà per questo che hai perso ci credo l'hai visto ti sei intenerita non si può vincere vabbè mandami famiglia almeno loro vediamo se vincono acquafante e non sono sicuro di aver visto anche questa la gelomaca poi cosa abbiamo uh nuovo black star carino poi abbiamo anche questi la scimmietta avevamo visti forse o no comunque picchiarilla che simpatici questi nomi e poi forse hai fatto questi che non li avevamo mai visti però non ce l'hai ancora eh non li trovo non li trovo e poi fuoco ma che tenevi che sono la bomba bombata bomba no no proviamo a sconfiggere qualcuno però con quelli dell'acqua questo è stato a livello 51 magari 51 possiamo andare tranquilli cioè non col fuoco magari e non col fuoco beh possiamo andare l'acqua andiamo con la luce la luce la luce illumina l'acqua magari c'ha qualche cosa di fulminato attacca clopedusa clopedusa fai vedere quanto nessuno è in grado di abbatterti la battaglia finale clopedusa contro pinghier l'amico di gringoire l'amico di gringoire oh abbiamo vinto la prugna gli altri schifosi e adesso inizia a farsene più di una eeeh vabbè il cambio delle tattiche e va bene questo qua è troppo scasso no fidati che non lo è come? e 42 potrebbe essere tosto buttarlo giù no vabbè vuoi andare sul rischio? vuoi andare sul potente? abbiamo appena potenziato gelumacca facciamo vedere quante foto vai gelumacca uuuuh in realtà mandiamo goldi per me fa tutto goldi guarda vai goldi sarà forte livello 42 mandiamoci quelli forti no 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 visto? visto? ci buttavo un po' d'ombra li mettevo sotto l'ombrellone e morivano subito guarda che a me mi vengono sempre nemici con livello 150 è un caso questo ma andiamoti all'arena non puoi dare la prugna a qualcuno che ho visto che qualcuno ha intassato il gabinetto? ha intassato il gabinetto magari bisogna un po' di prugne adesso altre prugne mamma mia stiamo potenziando tantissimo questa gelumacca però non la schiuderemo più dalla lettiera eh vabbè stai lì finché puole bene quindi diamo un'occhiata locemente alla gilda ci teniamo a ringraziarvi tutti grazie perché avete comunque continuato a supportare la gilda a fare un sacco di battaglie a cercare di portare alto il nome del tunnel hub visto che ci sono tantissime persone che ci si stanno impegnando tantissimo e quindi la gilda sta salendo sempre di più di livello vorremmo fare in modo che queste persone si sentano a casa in una gilda potente dunque porteremo verso la metà fine di gennaio il livello minimo per entrare nella gilda a 50 che è ancora relativamente basso mi sono 85 quindi state tranquilli che a meno di 80 non lo mettiamo ancora per un po' però almeno 50 come livello minimo quindi se avete un livello più basso avete un mesetto per salire di livello in modo da restare nella gilda o comunque per avere la possibilità di entrare in questo momento la gilda è stata versando una piccola fase di stallo perché non raggiungiamo una quota minima di funghetti per fare qualcosa di bello non possiamo dunque aumentare il posto per i membri e non possiamo neanche donarli eh no perché come vedete 0 0 accidenti allora non possiamo donarli anche se non ne vogliamo dare 10 donna no non puoi vai da un po' da bavuvu che magari ci dà qualche funghetto guarda se la bavuvu ce la dà gira la ruota bravo bravo il funghetto ci devi dare dei funghetti se no non possiamo far entrare altri cari amici non hai capito niente ma è arrabbiato è arrabbiato quindi forse non trovate qualcosa di fantastico ma forse no wow wow no fa schifo via ci abbiamo preso 0 euro e viva proprio sto gioco oggi è buono con noi grazie grazie mille notare poi che i venditori vanno a dormire tipo alle 6 del pomeriggio perché sono già in pigiama è vero guardali sonno perché mi disturbi e adesso direi anche di avviare un bellissimo ride e andremo alla conquista del polo est non del polo nord perché anzi ve lo diciamo in modo assolutamente spoileroso non perdetevi il video delle 5 e mezza stiamo partendo per il polo nord perché ci è arrivata una lettera tutta strana strappata con scritto avete vento un viaggio basta che prendiate il primo aereo e vi ci portiamo anzi avevamo già un aereo parcheggiato fuori dalla porta e quindi stiamo per partire ho preso preparando lo zaino sto mettendo dentro le cose importanti tipo il forno e il forno enormi non perdete il video delle 5 e mezza così almeno vedrete che cosa abbiamo combinato di bello nella nostra vacanza al circolo polare artico noi vi ringraziamo di cuore per essere stati con noi in questa nuova puntata di shakes and fridge ci rivediamo tra un mesetto circa buon natale da shakes and fridge nelle pianure di oscar grazie a tutti per essere stati con noi su shakes and fridge ci rivediamo nel prossimo video e alle 5 e mezza con gli eternal love ciao